Lo giuro. Eligio Bichon, lo giuro. Clavetta Alberto, lo giuro. Sedetevi breve. Imputata, alzatevi. Vi chiamate? Elsa, dove stai? Siete qual c'è? I miei genitori erano abituali. Dopo la guerra del fattore di Stiguliani in Francia, a Parigi, dove sono nato. Avete fatto studi superiori? Sono dottoressa in medicina. Ma non avete mai esercitato? Ho preso la laurea e poi sono entrata nelle nuove farmaceutiche. Ai laboratori Vodremont? Sì. Quali erano le vostre funzioni? Per due anni sono stata la collaboratrice di Morissi Vodremont e tre anni la direttrice effettiva, quando il suo stato si aggravò. Fuori del lavoro, in che relazioni eravate con Morissi Vodremont? Ero la sua amante.